E' stato approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea il bilancio di confiti di impresa Abruzzo, un'assemblea caratterizzata da un rinnovato slancio che si vuole mettere in campo, proprio mettendo insieme l'associazione con la cooperativa. Abbiamo Tommaso Fizzani, il presidente di confiti di impresa Abruzzo, e poi abbiamo anche Fabrizio Bomba, presidente di Casa Artigiani. Avete rinnovato, insomma, quest'unione nell'Assemblea? Sì, abbiamo rinnovato quest'unione nell'Assemblea, questa sera è stata una bella assemblea con molti soci che credono, ma vi dico due parole ben concrete. La nostra alleanza è per un futuro di questa struttura perché adesso veramente possiamo lavorare insieme, con molta sinergia, per andare avanti e non tornare mai indietro. Fabrizio Bomba, che si sente di dire? Io ringrazio Tommaso per le belle parole. Beh, effettivamente è stata una bella assemblea, un po' me l'aspettavo perché effettivamente vincere con uno slancio così importante, 360 deleganti con una presenza forse di oltre 150 persone all'interno della sala, insomma non è da poco. Però, come dicevo prima nell'intervento, questo ci riveste di una grande responsabilità. L'impegno che oggi dobbiamo confermare e rafforzare per portare avanti quegli obiettivi che un anno fa io e Tommaso Pizzani ci siamo prefissati. Quindi ci siamo, ci siamo ancora di più, più forti di prima, ancora di più per dare risposte ai nostri associati, ai nostri cari artigiani e alle nostre piccole e medie industrie. E' stato rinnovato il CDA? Sì, è stato rinnovato il CDA, i nuovi componenti sono Tommaso Pizzani, Fabrizio Bomba, Roberto Gentile, Gianmarino Mario, Giancarlo Montemaro, Antonio Di Meno di Bucchiani con Luca Annibale. Una bella sinergia perché vede gli esperti, che io chiamo così, da chi c'è da più tempo di noi all'interno della struttura, e ai meno esperti, tra virgolette, ma che comunque hanno già attraversato un anno di sviluppo, un anno di programmi, un anno di belle soddisfazioni con Casa Artigiani Provincia di Chieti. Quindi secondo me è un bel connubio quello che io e Tommaso Pizzani abbiamo messo in campo. Ma io direi con una stretta di mano che possiamo concludere, con una stretta di mano tra voi due. Buon lavoro. A prestissimo. A te.